Cambia la geografia dell'ospedale di Arezzo, in particolar modo quello dell'area di malattie infettive. Ci saranno 16 posti letto in più per la terapia intensiva e un reparto intero rinnovato e riqualificato. In questi giorni sono terminati i lavori di ristrutturazione della sezione di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dopo alcuni mesi di trasloco forzato a causa dell'avvio delle opere del cantiere, adesso il personale è tornato in servizio nella sede originaria del reparto. Oltre alla riqualificazione strutturale del comfort dell'intera degenza, i lavori hanno permesso di realizzare posti letto attrezzati per la terapia subintensiva. Come previsto nel decreto rilancio, l'ospedale, su impulso dell'azienda sanitaria, sta realizzando le degenze flessibili che, al bisogno, possono essere rapidamente riconvertite da cure ordinarie a subintensive in un'area, il sesto settore, già dedicata ai ricoveri covid. Così ai 17 letti già realizzati lo scorso autunno se ne sono aggiunti altri 16. Si stanno realizzando anche nove posti letto di terapia intensiva, la cui consegna è prevista entro marzo 2022. Saliranno a 30 letti totali di terapia subintensiva del San Donato. In epoca pre-covid erano soltanto 10. I prossimi lavori interesseranno ulteriori quattro posti letto che andranno a collocarsi nel reparto di pneumologia.